Le fiamme si stavano per espandere, solo il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri hanno evitato che si allargassero a tutta l'abitazione. L'incendio è domenica a Tencarola di Selvazzano, in un fine settimana caratterizzato da super lavoro per il maltempo, a farle divampare il malfunzionamento di un condizionatore sottoposto in questi giorni a un super lavoro forse eccessivo.